Messaggio della Madonna, 30 novembre 2019 Pregate per avere la forza di vincere le seduzioni del demonio. Non vi lasciate ingannare. Le gioie del demonio sono illusorie e fugaci, schiavisano le vostre anime per portarvi all'inferno. Pregate il rosario e tutte le catene del peccato saranno distrutte e sarete liberi dalle loro grinfie per servire il Signore nella vita di grazia e santità. Rinunciate al mondo, sacrificando la vostra stessa volontà per fare la volontà di Dio. Ricordatevi, figli miei, qualunque cosa abbandonerete in questo mondo, riceverete cento volte di più nel regno del mio figlio. Tutto ciò che fate per me e per mio figlio Gesù non sarà dimenticato. Vi amo e vi dico di combattere questa terribile battaglia spirituale, in questi tempi, con la preghiera, il digiuno, con i sacrifici offerti con amore a mio figlio Gesù. Ogni preghiera e sacrificio è prezioso per riparare i peccati terribili commessi nel mondo. Molti peccati vengono commessi all'interno della casa di Dio e offendono così tanto il Signore. Questi sono gli scandali di una vita senza Dio come essa dai ministri del Signore. Mio figlio non è mai stato così offeso come ora, in questi tempi, perché i sacerdoti hanno trasformato la loro vita in un impantanamento di impurità. Pregate per i ministri infedeli, che si pentano dei loro peccati e dia il buon esempio. Altrimenti saranno terribilmente puniti dal Signore. Piegate le ginocchia a terra e invocate la misericordia di Dio per loro. Ascoltate le mie chiamate, accogliete le mie parole nei vostri cuori. Vivete i miei appelli con amore e con fede. Ritornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amém.